Buone stelle da Radio.Zero, la miglior radio del Friuli Venezia 2. Giovedì 17 febbraio ed è subito tempo di novità insieme alle stelle di Radio.Zero. Diamo il via al nostro oroscopo. Ariete, potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto. Riuscirete a mettere in pratica le capacità organizzative oggi. Non c'è nulla di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Attenzione, state in campana, soprattutto sul lavoro. Toro, complice l'alleanza Luna-Urano, la vostra giornata è tutta improntata sulla carriera. Ideale per rimettere in ordine le idee, per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un'intuizione geniale per risolvere questioni professionali un po' delicate. Gemelli, la Luna scombina i vostri programmi in questo giovedì, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Un colloquio potrebbe essere invalidato anche da un imprevisto. Perdendo l'obiettivo, esagerare diventa facile. Non disperdete le energie, però, soprattutto in azioni inconcludenti. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Istinto, sensibilità e perspicacia sono al top. Oggi abbonda anche l'intraprendenza. Fate seguire i fatti alle parole. Leone, giovedì favorevole alla realizzazione di un progetto. A patto, però, che pianifichiate bene ogni dettaglio. Stare un po' con e dentro voi stessi vi farà decisamente bene. Avere una visione chiara della situazione, poi, mette in moto energie che aiutano a concretizzare gli obiettivi. Puntate tutto su questo. Vergine, di passaggio nel vostro segno, la luna forma un trigono con urano che controbilancia le tensioni quotidiane. Ci saranno forti attrazioni anche sul fronte affettivo e passionale. La luna e urano si focalizzano sulle mete professionali e vi forniscono le intuizioni adatte per raggiungerle. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Sviluppate la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate invece da un'imposizione. Scorpione, atmosfera serena eppure costruttiva con la luna in vergine che direziona verso traguardi tangibili il vostro intuito e lo spirito d'iniziativa. Buone opportunità anche nel lavoro. Un ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi vi attendono in giornata. Un alto rendimento anche per chi studia. Sagittario, il passaggio della luna in vergine non è come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operativi nelle attività di routine. Accogliete con gioia, anzi con grande gioia, un animaletto abbandonato. Il suo affetto, ne siamo sicuri, vi ripagherà degli inevitabili sacrifici. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee vi accompagna oggi. Ringraziate il transito della luna in vergine che rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Avete poi una gran voglia di agire, di mettervi in gioco senza lasciarvi demotivare da dubbi e incertezze questa volta. Acquario, i problemi burocratici e la gestione del denaro comune sono il focus odierno. Con un atteggiamento conciliante però potrete risolvere qualche problemino. Luna ideale per depurare il corpo dalle tossine, tisane, infusi drenanti sono al top. Fateveli consigliare da un buon erborista. E chiudiamo infine con i pesci. Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse nel rispetto dell'interlocutore e senza ferire la sua sensibilità. Un ottimo lavoro quindi da parte vostra. Potrete togliervi qualche bella soddisfazione dando prova che il vostro sesto senso alla fine ha la sua logica. Ed è tutto quindi anche per oggi. Dalle nostre stelle l'appuntamento con l'oroscopo e per domani sempre qui, sempre alla stessa ora. Intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna. Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia